La Silver Economy è anche un settore in grado di creare posti di lavoro per i giovani e di sviluppare attività nell'ambito delle nuove tecnologie, applicazioni delle nuove tecnologie. Certamente, diciamo che quello che succederà è che il numero di frequentatori perenni della città daranno risultati, dico una cosa banale, il lattaio venderà più latte, ma la cosa più importante sarà che queste persone richiedono servizi dedicati a loro, molto importante questo, che saranno quello di far fare loro cultura, di vedere andare su per i monti, fare attività dedicate, sportive, culturali e di servizio alla terza età in una regione bellissima come la nostra.